Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affittibrianza e ti porto in visita in un appartamento monolocale a Cesano Maderno. Ingresso da un ballatoio comune, ingresso all'appartamento, bagno con doccia, sanitari e lavatrice inclusa, finestra, panno principale open space con arredamento curato e rifinito su misura, capiente negli spazi con divano letto, armadiatura ponte, cucinotto separato, completamente arredato. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.